Il tumore del colon retto è il secondo tumore dopo il tumore del polmone per i maschi e il tumore della mammella per le donne e su tutta la popolazione dopo il tumore del polmone è il secondo nella popolazione italiana, quindi molto frequente. Per dare qualche numero, voi vedete che ci sono 54.600 nuovi casi l'anno di tumore del colon retto. Che cosa significa? Che ogni giorno vengono diagnosticati in Italia 150 casi nuovi di tumore del colon retto. Se facciamo due conti, vuol dire che in un mese ci sono 4.500 nuovi casi di tumore del colon retto. La prevenzione per i tumori del colon retto, così come per gli altri tumori, è di estrema importanza. Non solo è importante, ma possiamo dire che è il primo atto terapeutico, perché prima si scopre una neoplasia, meglio si può essere curati. Cosa vuol dire? Se la scopri in una fase precoce, le tue possibilità che il trattamento terapeutico possa essere stato efficace aumentano e quindi c'è più possibilità non solo di essere curato, ma di guarire. La prima prevenzione è l'informazione. Quindi è estremamente importante la prevenzione che si è fatta a Rimini da parte di Signor Italia, perché solo informando la popolazione, tutti noi cittadini, di quali sono le classi che devono fare prevenzioni e informare proprio dei rischi, è il primo passo che dobbiamo comprare tutti insieme. La responsabilità di fare questa informazione deve partire certamente dalle istituzioni e quindi dal Ministero della Salute e successivamente dai medici di medicina generale, che sono coloro che sono a maggior contatto con tutta la popolazione. Certamente i medici di medicina generale, per poter fare informazione, devono avere anche gli strumenti, le possibilità che devono essere date dalle istituzioni per poter poi applicare la prevenzione. Che cosa significa? Che se per un tumore con un retto è necessario fare una coloscopia, il medico di medicina generale non deve solamente prescriverla, ma deve avere anche la possibilità, quindi lo strumento, di poterla prenotare in tempi certi e rapidi. Come medico io devo consigliare una coloscopia. Il problema qual è? Che nei programmi di screening regionale, che rispondono a quelle che sono le linee che li vengono dettate a livello nazionale dalle istituzioni e quindi dal Ministero della Salute, viene indicato che sopra i 50 anni voi dite ma a me è arrivata la lettera, è arrivata la lettera per fare il sangue occulto delle feci e solo se questa risulta positiva la coloscopia. È vero? Sì, è vero. È sufficiente? No. E perché fanno questo le istituzioni? Perché purtroppo è una questione economica. Il nostro sistema sanitario nazionale, che per mille ragioni è in importante difficoltà, non ha le capacità economiche per poter assicurare col sistema sanitario nazionale a tutti i cittadini sopra i 50 anni di effettuare una coloscopia. Però come medico io non posso, soprattutto come medico che si occupa di questa patologia, non consigliare invece a tutti coloro che hanno sopra i 50 anni, o a maggior ragione a chi appartiene a fattore di rischio, di effettuare una coloscopia. Perché è importante fare lo screening? Perché tutti i tumori del colon retto nascono come delle piccole escrescenze all'interno dell'intestino. L'intestino è come un tubo di giardino. Se voi immaginate di prendere questo tubo di giardino e ci guardate dentro, c'è una cavità. Ecco, dentro questa cavità, nella parte più interna, nascono i cosiddetti polipi. I polipi cosa sono? Sono delle escrescenze di questa parete dell'intestino interna, della mucosa o della sottomucosa, che inizialmente sono assolutamente innocue. È evidente che se noi cogliamo il polipo nelle sue fasi iniziali, tenete presente che il trattamento di questi polipi, come vedete in depositive, soprattutto nelle prime tre fasi, è possibile curarle semplicemente durante la coloscopia. Si portano via per via endoscopica, si fa l'esame istologico e nella maggior parte dei casi finisce lì. Per questo è importante la prevenzione. Perché se quel polipo noi non lo scopriamo in questa fase iniziale, questo polipo poi diventa un cancro. Degnera e non si può fare più niente. Certo che si può fare, però certamente la popolazione che ha potuto scoprire prima questi polipi avrà delle possibilità di cura superiori a chi dovrà invece fare delle terapie una volta che il polipo è già diventato tumore. Un altro concetto importante è dividere il tumore dal colon al tumore del retto. Quando siamo in un polipo in uno stato più avanzato c'è l'intervento chirurgico. Oggi, soprattutto per i tumori del colon, questo è possibile farlo in centri specializzati per via laparoscopica. Che significa per via laparoscopica? Significa che all'interno della pancia l'intervento è il medesimo. Ossia deve essere portato via quella parte di intestino dove c'è il tumore con delle ghiandoline che si chiamano linfonodi in modo radicale. Questo è un intervento radicale. Ci sono dei criteri con cui noi parliamo nella comunità scientifica che ci fa dire se alla fine intervento questo intervento è stato fatto bene radicale oppure oncologicamente corretto in base al numero dei linfonodi. Oggi è possibile fare questo intervento in laparoscopica senza tagliare tutta la pancia ma introducendo delle cannule attraverso una di quali viene trasmesso in un video l'immagine dentro la pancia con cui noi effettuiamo l'intervento e non si ha una maggior possibilità di guarire. No, c'è una maggiore ripresa, ossia si ha una cicatrice meno importante, piccolissime, se non una sovra il pube per portare via la parte di intestino asportata. Il paziente potrà riprendersi molto prima dall'intervento chirurgico e quindi ritornare anche prima al lavoro. E anche questo in un discorso di macroeconomia comporta certamente un risparmio dal punto di vista sociale importante. Il tumore del retto invece ha una storia diversa perché per il tumore del retto in fase medio avanzata, anche se è possibile fare subito l'intervento chirurgico, oggi è stato dimostrato che effettuare invece prima dell'intervento chirurgico una chemioradioterapia preoperatoria, noi medici siamo neodiuvanti, ossia prima dell'intervento, riduce molto il rischio che dopo l'intervento, che comunque dovrà fare, possa tornare il tumore e non farla oggi è assolutamente sbagliato per le conoscenze che abbiamo oggi. Pertanto se uno ha un tumore del colon può andare anche in un centro che non ha contemporaneamente la chemioterapia, la radioterapia, purché ci sia un centro ad alto volume di colon, se un paziente, se un signore fa un tumore del retto, il medico di medicina generale lo deve mandare in un policlinico universitario o in un ospedale dove contemporaneamente a un chirurgo con un buon volume per la patologia del retto ci deve essere l'oncologo radioterapista, l'oncologo medico, il buon radiologo, un buon anatomopatologo perché per il tumore del retto quando la localizzazione è medio-bassa e il tumore è non stato medio avanzato, è indispensabile effettuare una chemioterapia preparatoria e dopo due mesi fare l'intervento chirurgico. Questo non vuol dire perdere tempo, ma al contrario dare almeno un 10% in più di possibilità al paziente di poter guarire da questa patologia.